Piori is on fire! Na 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 I capioni dell'Italia siamo noi! Siamo noi! Siamo noi! I capioni dell'Italia siamo noi! Ragazzi, non ho più voce tra un po'. È uno spettacolo! Il derby di Milano! Il derby dei derby! Milan-Inter 3 a 2! Buona serata! Magnifica serata di questo sabato! Eh sì, questo qui si incanta! Di questo sabato, 3 settembre 2022, ore 20.02! Milan-Inter 3 a 2! Alla faccia tua! Alla faccia tua, Interista! Ma soprattutto alla faccia tua, Cialanoglu! Alla faccia tua! Tiè! 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 Godo! 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 Mr. Gerry Cardinale! Presidente che era lì allo stadio insieme a Gordon Singer, a Paul Singer, la famiglia Singer, il nostro Gerry Cardinale! Gazzini, se quant'altro, Mr. Gerry Cardinale! Presidente, no! Presidente no, perché è Scaroni! E c'era anche Scaroni insieme a lui! Nostro nuovo proprietario, Mr. Gerry Cardinale! Se Leao le chiede un po' di soldi in più! Glieli dia, Mr. Cardinale! Mi faccio a sto favore, Mr. Cardinale! Aumenti il tetto di ingaggio massimo di un milione di euro in più perché Leao se li merita! Come Godo! Come Godo! Come una bestia! Allora, ragazzi, 3 a 2! Insomma, non devo aggiungere altro di questo derby magnifico che mi ha fatto godere! Mi ha fatto urlare come una bestia! A proposito, arbitro, com'è che si chiama l'arbitro di stasera? Dovere? Non me lo ricordo più! Ma non si vergogna aver dato un minuto in più oltre il limite, oltre al tempo già scaduto! Cioè, proprio per dare l'ultima possibilità di questo thriller che non esisteva! Che vergogna! Vabbè, lasciamo perdere! Noi non badiamo a queste cose perché siamo troppo forti! Ragazzi, la nostra squadra è troppo forte! Voglio fare un applauso a Mr. Pioli che ha fatto i cambi giusti questa volta! Che nel secondo tempo Mr. Pioli ha fatto i cambi giusti! Bravo, bravo! Qui si è svegliato, qui si è svegliato! Ma voglio fare un grosso applauso ai nostri ragazzi! A voi, i nostri giocatori del nostro amato Mila! Siete stupendi! Siete una grande squadra! Siamo una grande squadra! Forza Mila! Sempre, comunque, ovunque, è uno spettacolo! Sono orgoglioso, siamo orgogliosi di voi! I campioni dell'Italia siamo noi! Stasera l'abbiamo dimostrato tutti i giornaloni, i giornalisti, gli opinionisti! Eh, il derby è un mondo a parte! No, però l'Inter ha qualcosa in più! No, no, l'Inter e la Juventus vinceranno lo Scudetto! Ma al Milan lo mettiamo al terzo posto! Tiè! Tiè! E... Alla faccia vostra! Alla faccia degli opinionisti che non ci hanno capito una mazza la maggior parte del Milan! Alla faccia dei giornalisti che non ci hanno capito una mazza del Milan! Alla faccia vostra! E tiè! E anche questo ve lo meritate! Eh, ragazzi, cosa devo raccontarvi di questo derby? Io sono qua che esulto! Sono felice come una Pasqua! Cioè, proprio vorrei suonare le campane, se avresti le campane! Ma non ce le ho, purtroppo, sul tetto! Ragazzi, è stata una partita magnifica! Controllate nel primo tempo, in modo molto lento, per non consumare troppe energie contro lo Salisburgo, martedì prossimo! Martedì prossimo! Contro lo Salisburgo, martedì prossimo! E i ragazzi dovevano dosare le energie, ma dopo il primo gol di Brozovic il nostro Minas è svegliato con un magnifico Leao! Un gol fantastico, 1-1 a fine primo tempo! Nel secondo tempo è venuto fuori praticamente questo Giroud con questo tocchettino da maestro di Giroud su assist di Leao! Magnifico! E poi, ragazzi, il terzo gol di Leao! Ma vogliamo parlare del terzo gol di Leao che ha fatto? Ne aveva addosso tre dell'Inter! No, c'era anche un quarto, ma ne aveva addosso tre dell'Inter! ha fatto un gol di Sponda su, mi sembra se non mi ricordo male, Scrinia, mi sembra su Scrinia di Sponda! Cioè si è appoggiato al giocatore dell'Inter per fare il gol! Cioè ne aveva tre che lo contenevano, anzi erano in quattro, poi c'è stato uno che si è staccato e erano in tre! Ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, ma ragazzi, noi abbiamo un fuoriclassico! Cioè, Leao sta concorrendo, ve lo voglio ricordare, per il pallone d'oro, per il pallone d'oro! Cioè, questo se in Champions League fai vedere i numeri si becca il pallone d'oro! Cioè, ragazzi... Mendes, fai il bravo, Mendes, eh! Jorge Mendes, fai il bravo, né! Leao deve rimanere al Milan, a questo punto deve rimanere al Milan, sì, deve rinnovare! Cardinale, dagli i soldi e comunque faccio un applauso a tutti! Faccio un applauso a Benasser, faccio un applauso a Tonali, faccio un applauso a Kier che è entrato dopo! Faccio un applauso a Pobeka che ha fatto un'azione giusta, che verso la fine del 95esimo sta andando a finire male! Faccio un applauso a Tomori, al grandissimo Tomori, faccio un applauso a Caluro! Faccio un applauso a Teo Hernandez che si è preso il giallo e ha fatto prendere il giallo anche a Danfris, apposta, lo ha fatto apposta! Sei un grande! Teo Hernandez sei un grande! Faccio un applauso a Calabria, faccio un applauso a Messias, faccio un applauso a Giroud Grandin, Giroud sei un mostro! Faccio un applauso a tutti! Faccio un applauso a tutti! A Brian Diaz, a tutti! Tutti quelli che hanno giocato! Faccio un applauso a voi che eravate in panchina! Faccio un applauso a Dechete Larbra! Sì, poi ci ha fatto prendere una punizione, diciamo un po' a rischio, però sono errori di gioventù! Ragazzi, il derby di Milano, Milano è rossonera per l'ennesima volta, per l'ennesima volta! Ormai voi interisti, rinunciateci, perché noi siamo troppo forti! Adesso un avversario forte che voglio incontrare, che non vedo l'ora di incontrare Napoli e Juventus, non vedo l'ora di incontrarli! E anche la Roma! Mettiamoci anche la Roma e anche la Lazio! Tutti li voglio incontrare questi qua, tutti! Non me ne frega niente, me ne sbatto completamente! Ragazzi, il video finisce qua perché non ce la faccio più, devo andare a mangiare qualcosa perché sono allo stremmo delle forze, ho urlato come un maledetto durante la partita, beati voi che si andate allo stadio! Vi abbraccio tutti, siete stupendi, è uno spettacolo! Noi ci vediamo lunedì, se c'è qualche novità magari anche domani 5 minuti non si sa, ma sicuramente ci vediamo lunedì! Ragazzi, godo come una belva disumana! Ah, a proposito, lo dico perché è la verità, non è per darmi dei meriti, ma chi mi segue su Instagram lo sa, io sono meglio della mamma di Lukaku! Se la mamma di Lukaku si dice che fa qualcosa, qualche rito, io quando faccio i riti non sbaglio mai! Voi che mi seguite su Instagram, scrivetelo qui sotto, che rito ho fatto oggi il Alex Corrosso Nero che rito ha fatto? Il solito rito delle partite importanti perché me lo sentivo, io i riti li faccio quando me lo sento! Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio, perché noi siamo forti! Forza, mira, sempre, comunque, ovunque, il campione dell'Italia siamo noi e Milano è nostra! Ciao! Ciao! Ciao!